Io subito, non si muovono quel codice, ma veramente 8 milioni di persone che muoiono per il fumo, 8 milioni di persone che muoiono per il fumo, ogni anno nel mondo, e il mondo si sta fermando per il coronavirus, ma stiamo scherzando, e al CONI, di fronte a Malagò, Minchino, ma lasciamo stare tanto Juve e Inter, ormai sono fuori, ha vinto l'analazio, lo graziamo. Chiudiamo, brevemente, vado via, scusate il lato del saldo, ma... Questo è il mio partenimento. Io e Danilo. Sì, 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 rf. Sì, sì, voglio chiamarli fra una decina di minuti.